musica 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 vuol dire in siciliano attenzione quindi l'ha avvertito come? no 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 io l'ho già avvertito adesso lo voglio andare a rapinare no in vei è a napoli qua si dice statta corti è nexus alex è il fintorina quello che è infangato stamattina il cognomerina quindi adesso lo voglio andare a prendere della mafia amica e buga e lo andiamo a prendere e lo portiamo qua così gli fai un po' di domande oh ragazzi venite chi è che viene con me raga? andiamo Ale vieni tu entrate e solo mi è venuto a prendere il casino ma eravamo dentro al patteggio se scendi giù ti carichiamo e andiamo a prendere con lo scemo no 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 raga raga un attimo in radio chi sono questi qua veri davanti a me? no questi qua i veri chiaro e li prendiamo? no 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 fermi puntali 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 fermi siete puntati quando dici oh scappa 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 ora raga io prendo la mia prendo la mia prendo la mia macchina che è la pula qua? che panno entrate c'è la pula da noi vai porcarci da c'entra sta pula dove ti vede? ci sta seguendo la pula raga va a cagare no ti vuole a explodere eh? anch'io lo sto pensando porca puttana vado sulla mate stand e mi butto non capisco un cazzo finalmente la mia macchina vedo tutta ondine no arrivo subito deve parlare solo rossi qualche tutti zitti perchè questa è una cosa di famiglia che cazzo vuoi? invitato all'inradio no questa è una cosa mia io sono rino oh cazzo chi è? ma lui? guarda gian ha fatto esplodere qualcosa lui? sta sta lenta mo vieni qua sta lenta mi invitano all'inradio uuuuuh a cazzerietà due tirometri guardi vi aspetto qua eh capito? yes yes aspetta qua per fare ferma eh ok vai tu pezza di merda dopo vi faccio vedere la mia onda ma dov'è? allora quindi lei è il signor Raina giusto? salve buonaggiorno lascio la parola a tenere mentre allora allora a tenere qui un attimo un attimo le di mio amore vai parla con i suoi e tolgo di speditoria ah beh non tocca me non dare ma mamma ma la che fa? apposta signor Raina lei è legato eh gli ho tolto tutti i positivi allora ah se vabbè tanto non aveva manco sui documenti allora ehm dopo ehm ehm innanzitutto mi presento sono Rosalia Rina unica della famiglia Rina dopo la morte di mio padre stamattina mi sono arrivato in minacce di morte da un certo Rina fake e dopo vari uccellini mi hai girato a voce che lei è il ragazzo che stamattina ha infangato il mio cognome ma forse si sta sbagliando con mio fratello perchè io sono totorrina io eh lo so e io a lei sto cercando e veniamo da palermo lo so signora siamo io totorrina io e lei è totorina e minorrina stiamo venendo da palermo scappando dalla polizia quindi dice ancora che lei è il signorino allora lei guardi questa faccia perchè sarà l'unica che l'ultima che lei vedrà io sono Rosalia Rina ok è l'unica Rina e adesso lei mi sceglie eh in città ma vabbè puoi anche ammazzarmi non me ne prendo un cazzo essendo il prossimo peggio magico si chiama pure Rina ma comunque vedremo a farti il fermo si si stavo dicendo se tu noi siamo gentiluomini le cose le facciamo con calma non c'è bisogno di sporcare questa strada qua di sangue per me puoi anche sperare un mio e l'interno ci segui sali in macchina hai due secondi e ti inizio a prendere sali sulla moto andate sul tetto andate sul tetto delegato sali eh mi dispiace portalo sul tetto vabbè aspettiamoli scusa e comunque e comunque signore e comunque signore mi sa che lei non ha capito contro chi si è messo lei si è messa contro un cartello i padroni di questa città dai qua giù siamo sul tetto a vado di veramente che devo fare aspetta riu vai giù sali vabbè i genitori mi hanno dato questo no questo no non è non è ma vabbè sicuramente guarda la guarda la guarda la guarda la stiamo aspettando un attimo l'elicottero sali la oh sali sali spelughiati picciolo Ah va, veloce, come a fare il capo? Beh, perché il rossalino va a fare il rossalino Oh, annaca, ti stai stendendo? Ah va, c'è peluche Ragazzi, ho pure la tua decimila k Devi fare il background, cancianome, tirati No, ma quelle canciane nuove Non va bene, se tu campi avanti con il merraina Ma quello infamare E allora dovete fare le ferme pure al amico mio Ma che m*****! Ora tutti facemo Non si preoccupate, non ho fatto i documenti Quindi posso cambiare Non facciamo scelta affettata Ancora ho finito documenti Mah, devi percorro Ho finito documenti Ho finito documenti Ho finito documenti Io non ho fatto più un sogno nutto Però non sogno nutto io Beddu mio, turisti stamattina, cangia nome, tu cosa mi hai detto? Eh, non stai canzando. Eh, sì, ormai. Io insomma, ma voi ti sbagliassi pochissiano, io ancora fuori i documenti. No, no, sei tu, Beddu mio. Io stavo facendo i documenti, sogno. Avanti, ma non mi spazzare la miglia, vedi qua. Oh, io sogno signor manciafico. Dai, però devi dire che le repi nostre ci sta manetta. Io te l'avevo detto, io te l'avevo detto in globale che facciamo le repi. No, no, allora devo andare a armare. Sei voluta un attimo, come vuoi morire? No, no, io ancora... Ma ancora non aprici i documenti, per favore. Vai, Cuglietti, d'oltre, d'oltre. Come abbiamo? No, ma stiamo a fare la mia seladaio, S интерес, stà, viva, seladaio. Vai, Cuglietti, ti premsi, premsi. Ma ancora io aprici i documenti, per favore. Ma ancora io aprici i documenti, per favore. Ok, ma vai scandare una pieciredda che da faccia. Non sei se mi riguardi a tutti qua. Ti fippato, perché no, 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 non posso pagare, perché ti ti manca più piccoli. che cazzo è il sorello è che il sorello è che io e mi ha già chiamato 5 minuti salutami tutti non puoi abbandonare combat log ma il tema gliel'abbiamo fatto lo stesso eh però è sempre combat log ma mamma mia abbiamo due angeli due angeli come si dice no pure io sono angeli lo faccio pure io la clip del mio matrimonio se fate i tempi dai 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 da cosa mi piace un po' poi a k no 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 la vita arriva il filo la camma fa non ce l'impero iniziamo iniziamo entra nella macchina con lui veramente io e te dobbiamo entrare sulla limusine perchè tu mi accompagni in l'altare allora iniziamo dicevamo dottale c'è nel piu' che posso lettare la cosa io vuole come devo portare la signora alla parte di padre io so padre dalle io e lui c'è la casa del signore signora come nome k Rosalia Rina il signore il signore il signore Mike Plomo Grazie a tutti.